«Che succede al porcellino?» chiese Teresa. «Niente», rispose il fratello. «Lo sto cercando per ammazzarlo». Era stata una risposta così spontanea che Teresa non poteva credere che fosse vera, ma si accorse che il fratello aveva con sé un coltello da macellaio avvolto in stracci da cucina. «Ma perché vuoi ammazzarlo?» domandò. «Chiedilo a tuo padre», disse il fratello. Teresa guardò il fratello con serietà. Lo conosceva così bene che avrebbe potuto scrivere un libro su di lui, soprattutto da quando era tornato dal servizio militare. Un emerito animale. E questa considerazione la spaventò, poiché aveva sempre pensato che solo il padre fosse un animale. Fu tanto spaventata che finì di riscaldare il latte in fretta e andò a svegliare il figlio per raccontargli ciò che stava accadendo nella masseria. Il figlio la ascoltò, mezzo addormentato. «No», disse, quando fu sveglio. «Il maiale non è ancora pronto. Tuo fratello non ammazza nessuno». Il giorno dopo, però, il porcellino era stecchito sul tavolo della cucina e Teresa ripensò con dolore a quello che dicevano i maestri. Nota 27. Cerchio ifiorro. Ogni cosa ha una duplice natura positiva o negativa, dipendente dall'osservatore, e operare la fusione, o meglio, saper osservare la realtà secondo entrambi i punti di vista, costituisce già un primo importante passo avanti per ridurre grandemente l'idea frammentaria che abbiamo della realtà.